Ben trovati per questa diretta. Questa sera la diretta, ciò di cui parleremo, è la legge di attrazione e i segreti evolutivi svelati. Andremo a vedere questa sera, in questa diretta, che vi dico già che non sarà tanto lunga, andremo a vedere come possiamo utilizzare la legge d'attrazione in modo evolutivo. Nella diretta di stasera vi voglio parlare della legge d'attrazione appunto, da un punto di vista dell'autoresponsabilità, svelandovi come funziona nello specifico, affinché nel momento in cui comprendiamo esattamente come funziona, non so che cosa sta succedendo. Ah ok, qualcuno mi ha chiesto un qualcosa perché c'è un nuovo pulsante qui su Zoom che non conosco e ho rifiutato, mi dispiace, non so che cosa mi avevate chiesto, ma non ho accettato quello che mi avete chiesto. Comunque, indipendentemente da questo, il messaggio che vi voglio passare questa sera è quello proprio, svelandovi il modo in cui funziona nello specifico la legge d'attrazione, darvi dello strumento per diventare dei co-creatori coscienti, consapevoli della vostra realtà, ognuno creando la propria vita nel modo più allineato possibile a quello che è realmente, ovvero la sua miglior versione. Partiamo dal fatto che la legge d'attrazione, di cui sentiamo poi tanto parlare anche attraverso le spiegazioni della fisica quantistica, è la base della creazione del nostro mondo e ci insegna che l'unione, ci insegna che c'è un'unione tra il pensiero e la carica emotiva, ma che è anche propulsiva la volontà e quindi attraverso, se abbiamo queste tre cose, ovvero pensiero, carica emotiva e volontà, possiamo manifestare qualsiasi cosa desideriamo nella nostra vita. Ciò su cui noi ci focalizziamo, è importante saperlo, dove portiamo la nostra attenzione, può dunque realizzarsi a patto che chiaramente lo vogliamo veramente e poi anche su questo, quando lo vogliamo veramente, andremo a comprendere cosa significa volerlo. Quindi a patto che noi vogliamo veramente e ci mettiamo tutta la carica possibile, possiamo attrarre quello che desideriamo e durante questa diretta capiremo meglio insieme a cosa mi riferisco attraverso queste parole, ma partiamo da un punto. Cerchiamo di capire intanto come funziona la legge d'attrazione, perché questa è una chiave fondamentale per vivere una vita gioiosa, perché dietro a questa legge si celano tutta una serie di principi che, se applicati, possono mutare radicalmente il nostro modo di vedere le cose e ci possono anche aiutare ad andare ad abbattere quelle che sono le nostre convinzioni limitanti. Come ben sapete, ve l'ho già detto sin da quando abbiamo iniziato questa diretta, io sposo la teoria dell'essere co-creatori della propria realtà e in quanto tali la legge d'attrazione, se funziona o non funziona, ma quando dico non funziona intendo se creiamo, o riusciamo a non creare la realtà che desideriamo, quindi se non funziona, ovvero inteso se non creiamo quello che desideriamo, dipende da noi stessi, perché la legge d'attrazione di per sé, se la prendiamo così com'è, funziona sempre. E il modo in cui essa funziona dipende da noi stessi. Perché la legge d'attrazione, come vi dicevo, funziona sempre? Perché? Perché è una legge universale e in realtà la legge d'attrazione è una sottolegge del magnetismo e il magnetismo è una forza che tutti abbiamo a disposizione e questa forza attrae ogni qualità che viviamo e esprimiamo. Se vibriamo alla frequenza dell'amore, ad esempio, sarà più semplice attrarre tutto ciò che ha a che vedere con l'amore. Spesso quando pensiamo di ricorrere alla legge d'attrazione però troviamo qualche problema e talvolta diciamo che le cose che vogliamo, che vogliamo manifestare nella vostra vita o che non vogliamo manifestare nella nostra vita, si vengono a creare. Quindi talvolta non ci riusciamo a creare quello che vogliamo e anzi si manifesta l'esatto contrario. Ma perché questo accade? Perché se io utilizzo un pensiero intenso, se mi focalizzo sul quello che desidero, qual è il motivo per cui non funziona? Perché non attrago quello che voglio? Questo succede perché ci esprimiamo, ci limitiamo ad esprimere dei desideri e lo facciamo solo a livello intellettuale, senza minimamente preoccuparci di fare esperienza di quelle qualità che desideriamo ottenere attraverso l'esperienza che l'avere l'oggetto del desiderio potrebbe portare. Cioè ci fermiamo semplicemente a desiderare una cosa, una situazione, ma non proviamo quello che proveremmo se già l'avessimo. Vi ricordate quante volte mi avete sentito parlare o chi mi segue per la prima volta comunque trova le dirette sul mio canale YouTube Anime Risveglio, dove spesso vi parlo dell'essere fare avere. C'è proprio anche un video su YouTube specifico che si chiama proprio Essere fare avere. Perché vi parlo sempre dell'essere fare avere? Ci arriviamo tra poco. Un altro argomento e un tema di cui mi sentite sempre riparlare è risonanza, attrazione, specchio. E come l'essere fare avere vanno anche essi in sintonia, vanno uno dietro l'altro. Tutta questa roba di cui va tutta di pari passo perché per attrarre ciò che desideriamo ci serve una stabilità e coerenza vibrazionale perché finché viviamo nella frequenza della paura, ovvero se crediamo che quello che vogliamo non lo avremo mai, che dovremmo lottare per ottenerlo o semplicemente se crediamo subconsciamente che se otteniamo l'oggetto dei nostri desideri potrebbe succedere qualcosa di negativo, attireremo esattamente quella roba, ovvero l'aspetto negativo piuttosto che il raggiungimento stesso del desiderio. Ma perché? Continuiamo a chiederci perché tutto questo. perché quella è la frequenza su cui vibriamo. Questo è il motivo per cui è necessario avere consapevolezza di ciò che è il magnetismo, ovvero una calamita che funziona sempre e che occorre imparare a maneggiare. E andiamo ad approfondirlo a breve nei dettagli, ma al momento quello che mi interessa profondamente per dare alla legge di attrazione uno scopo di consapevolezza evolutiva è quello di sapere che qualsiasi situazione che attraiamo a noi arriva allo scopo di procurarci, di proporci un'opportunità di crescita per comprendere cosa noi stessi crediamo. Attiro bellezza significa che risuono e quindi attraggo quella bellezza. Altro esempio, attiro guai è possibile che risuoni con la frequenza che sono una persona sbagliata. Attiro debiti potrei credere che i soldi sono la radice di tutti i mali. E quindi perché se i soldi sarebbero la radice di tutti i mali dovrei attrarli. Quindi razionalmente, prendiamo questo esempio, potrei desiderare, volere attrarre quel denaro. Ma se per risonanza o siccome dentro di me risuona una convinzione che è i soldi sono la radice di tutti i mali, dentro di me, anche se a livello inconscio, si attiva una frequenza di paura. Quindi se i soldi sono la radice di tutti i mali, perché dovrei volere del male nella mia vita? Non è messaggio. E quindi a livello profondo crea una vibrazione che in realtà invece di attrarre il denaro lo allontana. Sappiamo che la legge di attrazione funziona sempre, abbiamo detto, e quello che attraiamo può trattarsi ad esempio di un problema da risolvere che ci riguarda, un problema che si riferisce a persone che conosciamo, dinamiche che si ripresentano una seconda volta come un'opportunità di trasformare determinate dinamiche e via dicendo. Tutto ciò che attraiamo ha sempre a che fare con noi e quanto più siamo allineati e coscienti di chi siamo, tanto più otterremo ciò che è davvero coerente con noi stessi. E questo implica l'autoresponsabilità del lavoro su noi stessi. Ritorniamo all'esempio di prima. I soldi sono la radice di tutti i mali. Un bambino quando nasce non è che nasce già con l'idea che i soldi sono la radice di tutti i mali. Quindi questo significa che nella nostra vita c'è stato un momento in cui quella convinzione, quell'informazione, invece che chiamarla convinzione, chiamiamola informazione. Quell'informazione c'è stata data da qualcuno, c'è stata trasmessa da qualcuno, ha risuonato, siamo stati programmati, ci siamo programmati con quell'informazione e oggi dentro di noi quell'informazione sta tenendo lontano da noi il denaro. Prendo il denaro perché è un esempio che è semplice ed è pratico per tutti. La domanda che ora mi sorge ed è questo il motivo per cui vi dico che è importante avere l'autoresponsabilità e lavorare su noi stessi perché? Perché in quel momento se io comprendo che dentro di me c'è un qualcosa che va contro la realizzazione dei miei desideri, significa che devo andare a scavare all'interno di me, devo andare in profondità dentro di me, devo andare a vedere quali convinzioni sono dentro di me, da dove originano, come si sono generati, ma soprattutto qual è il motivo per cui le sto tenendo attive. Perché se non le conosco questa roba andrà a lavorare in automatico dentro di me e creerà la mia realtà, che però è disallineata da quello che io voglio. Però siccome sappiamo che la legge d'attrazione funziona e attraiamo a noi quello con cui risuoniamo, se dentro di me risuono con la paura perché per me i soldi sono la radice di tutti i mari, capite che dentro di me quel denaro lì l'allontanerò. Quindi devo andare a conoscere me stesso, devo lavorare su me stesso e implica questo l'autoresponsabilità che significa mettersi nella condizione di conoscersi. Ricordiamoci sempre che il mondo esteriore è un riflesso del nostro mondo interiore, ovvero è il mondo interiore, la mente creatrice che genera quello esteriore. Allora dobbiamo comprendere che è utile per noi divenire consapevoli di ciò che pensiamo, di ciò che diciamo, di ciò che desideriamo. Dobbiamo imparare e essere consapevoli, comprendendo da dove origina quel pensiero o quel desiderio, perché se il desiderio origina da una mancanza e l'oggetto del desiderio serve per colmarla, quello che attrarò sarà esattamente la mancanza. Vi faccio un altro esempio per aiutarvi a comprendere meglio. Mettiamo che ci sono tante tecniche che si utilizzano con la legge di attrazione, ne conoscerete tantissime, la 369, la 5x55, oppure farsi la dashboard. Insomma, ci sono tantissime tecniche che si possono utilizzare. Ma mettiamo in una di queste tecniche che vogliamo attrarre nella nostra vita una macchina di lusso. La domanda viene spontanea ed è qual è la motivazione per cui ho la necessità di attirare, quindi perché mi voglio manifestare una macchina di lusso? Perché mi piace, ok, ma ti piace solo per la bellezza, quindi la vuoi solo perché è bella o la vuoi anche per qualcos'altro? Cosa significherebbe per te avere quella macchina di lusso? Potrebbe essere, sempre tornando ad un esempio che non è detto che vi ci dobbiate rispecchiare, è solo un esempio, che quella macchina una persona la vuole manifestare nella propria vita perché quella macchina di lusso, essendo uno status symbol, potrebbe significare agli occhi degli altri è di essere una persona di successo. E magari se diveniamo, siamo coraggiosi perché la cosa più importante per fare questo tipo di lavoro all'interno di noi è essere coraggiosi e quindi permetterci di vedere la verità su noi stessi possiamo andarla a trasformare. Sempre nel caso della macchina potrebbe essere che quella macchina di lusso la voglio per manifestare che ho avuto successo perché da piccolo, siccome sono stato bullizzato, mi hanno sempre detto che non valevo niente e se io manifesto una macchina di lusso, siccome la macchina di lusso costa tanto denaro, allora significherebbe che ho successo. Capite che tutto questo è improntato su un castello di illusione soprattutto, ma è creato su un castello legato a una ferita. Mi sento rifiutato, non mi sento visto, mi sento invisibile, mi sento bullizzato, mi hanno sempre detto che non valgo niente. Allora oggi attraverso quella macchina io la rivalza. È chiaro che quello che andrò a manifestare, se sarà quello con cui risuono, quello che manifesterò nella vita, andrò a manifestare tutta una serie di ferite, tutta una serie di mancanze. Allora dobbiamo, per questo si parla di autoresponsabilità, essere sinceri, onesti con noi stessi, imparare a lavorare su noi stessi, a vedere la nostra verità senza giudizio. Perché il problema, quando noi non vogliamo vedere la nostra verità, è che diventiamo gli giudici più spietati di noi stessi e per non vedere quella roba che giudicheremmo abominevole, non ci permettiamo di lavorare. Invece, se diveniamo dei osservatori, senza critica, degli osservatori esterni, imparziali, e osserviamo oggettivamente, quindi non soggettivamente, le dinamiche, potremmo vedere che cosa si innesca e andarlo a trasformare, perché altrimenti saranno le ferite a manifestare al posto nostro, saranno i traumi a manifestare al posto nostro? Cioè, qual è il motivo per cui voglio manifestare e portare nella vita quella determinata situazione, quella determinato tipo di persona, quel determinato tipo di lavoro e via dicendo? A cosa mi serve? È perché veramente risuona con me, veramente risuona con la mia essenza? o è semplicemente perché ho una mancanza che attraverso la realizzazione di quella manifestazione posso andare a sanare? È questo dove molti rimangono intrappolati. Dobbiamo comprendere che ogni persona è un po' come uno strumento musicale che emette delle vibrazioni e vibrando che cosa si fa? Attrae a sé quegli elementi che reagiscono a quel tipo di vibrazione. Avete mai visto quei video dove battono un diapason e quando c'è un altro diapason della stessa frequenza accanto nel momento in cui viene battuto e quello vibra, anche se l'altro accanto non viene battuto, vibra uguale perché ha la stessa frequenza. Le vibrazioni, da dove nascono quelle vibrazioni che poi manifestano la nostra realtà? Nascono dai pensieri, che reagiscono dai pensieri che si basano su esperienze non presenti, ma pregresse, vissute, tramandate. E quei pensieri che formuliamo nella nostra mente e vengono poi ripetuti, finiranno per imprimersi nel nostro subconscio, dove lavoreranno nel blu buio influenzando la nostra realtà. Quando noi, e qui vi voglio invitare veramente ad essere riflessivi sul vostro dialogo interno, durante la giornata, qual è il tipo di pensieri che alimentate? Vi continuate a lamentare? Continuate a criticare? Continuate a giudicare? Oppure vedete le cose e portate l'attenzione sulla bellezza di una situazione, sulla bellezza di una foglia, sulla bellezza di un uccellino? Dov'è focalizzata la vostra attenzione? Perché quello ve la racconta lunga sul modo in cui interpretate la realtà, su quella che è la vostra vibrazione. E ricordatevi che attirerete in base a come risuonate, alla vibrazione che avete. Quando comprendiamo come funziona e ci allineiamo alla giusta frequenza, dobbiamo iniziare a dare ai pensieri la giusta forza emotiva ed avere poi fede. Ovvero quella forza mistica che induce poi al convincimento, ma neanche al convincimento, alla consapevolezza che ciò che vogliamo è già manifesto fondamentalmente nella nostra vita. Dobbiamo essere consapevoli del fatto che siccome questa legge esiste, la legge dell'attrazione esiste e funziona, se io sono su quella frequenza, quello che desidero arriva. Di conseguenza, si attiva la consapevolezza della sua realizzazione. Per questa ragione occorre maneggiare con cura qualsiasi tecnica abbia a che fare con la realizzazione dei propri desideri. Non c'è nulla di male nel desiderare, anzi, sarebbe già bello se si desiderasse. Solitamente le persone più che desiderare che desiderare ha un significato molto profondo, desiderare significa implica il conoscersi, desiderare significa non accontentarsi, desiderare non significa scegliere, desiderare significa mi accorgo che quello che c'è fra le possibili scelte non mi piace e che voglio qualcosa di più. Quindi non mi accontento di quello che c'è, ma voglio portare nella mia vita un qualcosa che è ancora diverso. Solitamente le persone si limitano più a sognare che a desiderare, per questo vi dico che desiderare è già un passo avanti, ne parlo molto bene approfonditamente di questo quando parlo dei 101 desideri. Come vi dicevo non c'è niente di male a sognare cose che possono renderci felici anche a livello materiale, però per produrre la vera abbondanza bisogna affinare il proprio discernimento, ovvero scegliere ciò che è davvero in linea con noi stessi anche per non deviare dal nostro percorso di vita, quello che abbiamo scelto prima di incarnarci. E ora voglio spiegare meglio questo dettaglio perché messo così sembrano un monte di parole buttate lì, ma cerchiamo di entrare in un esempio per capirlo concretamente. La domanda è siamo davvero sicuri che se mi metto qua e manifesto che siccome ho sempre ballato da quando ero piccola perché mia mamma mi portava sempre a danza e io ora voglio mi metto qui voglio utilizzare la legge dell'attrazione per manifestare di diventare la ballerina più brava d'Italia in vento. Ma siamo sicuri che questo desiderio è mio? Siamo sicuri che volerà essere quella ballerina perché sin da piccola mamma mi portava a danza classica? Perché mamma si fermava a guardarmi quando facevo lezioni di danza classica e magamamma avrebbe tanto voluto diventare una ballerina di danza classica ma poi è diventata è rimasta incinta di me non ha potuto coronare il suo sogno non è che io sono un'estensione dei desideri di mia mamma è roba mia voler fare la ballerina cioè se io fossi venuta in questa incarnazione invece sempre per dedicarmi alle arti ma magari per fare la pittrice e sono qui che cerco di manifestare con tutta me stessa il diventare la ballerina perché la mia bambina è interiore quella bambina che ancora crede che per essere vista da mamma deve fare la ballerina vuole diventare la miglior ballerina d'Italia perché ormai tutti gli altri il suo pubblico sono diventati sua madre un'estensione della madre la necessità di essere ancora vista cosa spinge a manifestare quel desiderio perché vi dico questo perché è importante prendersi la responsabilità di conoscere chi siamo perché siamo costantemente co-creatori della nostra realtà però potremmo andare a manifestare e rischiare anche di ottenerlo e questo è divertente no? dici ma stessi qui a manifestarlo sì però potresti ottenere un qualcosa che non è allineato a quello che tu sei e potresti sentire sempre quel senso di insoddisfazione avete presente quando finite di mangiare che dite sì buono è tutto buono ma mi manca qualcosa quel dolcino quel chicco quindi potresti potresti diventare una ballerina famosa però potrei sempre sentire che mi manca qualcosa se vogliamo maneggiare in qualche modo chiamiamolo maneggiare ma in realtà non è che la dobbiamo maneggiare la legge dell'attrazione però perché è sempre attiva costantemente H24 però utilizziamola per semplificare per aiutarvi a comprendere più semplicemente se vogliamo maneggiare la legge dell'attrazione e portare i suoi risultati nella nostra vita dobbiamo essere consapevoli che prima di desiderare qualcosa di materiale o anche di spirituale e poi di conseguenza attrarlo mi devo chiedere se questo possa comportare delle conseguenze se non possa in qualche modo rallentare il mio cammino evolutivo mettiamo che voglio diventare torniamo al discorso della ballerina la ballerina famosa ma e voglio andare a ballare alla scala di Milano e sono del che ne so io della Calabria veramente voglio lasciare tutto quello che amo tutto dove vivo per andare a ballare alla scala di Milano veramente voglio allenarmi 15 ore il giorno non spaccarmi i piedi per essere vista magari qualcuno è la sua missione qualcuno è proprio nato per quello e ti dice sì però è un sì che non ci devi riflettere è un sì che è dal cuore è sì non c'è niente di più bello per me e allora vibrerà su quella frequenza perché è già nell'essere perché già quella persona è già una ballerina ma se invece è devo diventare una ballerina e devo fare di tutto per diventare una ballerina e quindi utilizzo la legge dell'attrazione nel fare perché così sarò essere vista da mamma e quindi avrò successo e il successo che desidero è per sanare una mancanza non sono nell'essere fare avere ma nell'avere fare essere e di conseguenza attirerò quello che sono ovvero la mancanza perché purtroppo nella società odierna ci hanno insegnato che per essere qualcosa quindi essere felici dobbiamo prima avere un risultato ma in realtà quel risultato arriva quando la mia frequenza io sono già allineato a quella frequenza su cui risuonerei se già avessi quello che desidero una volta che abbiamo appurato quindi che mi dovrò allenare ad essere ovvero a sviluppare le qualità di base che hanno a che fare con quel desiderio quindi se già mi sento una ballerina se già sento che io voglio vivere come una ballerina cioè se già sono qui che per me ballare è sentirmi una farfalla sono già una ballerina non ho bisogno di avere il ruolo del del cigno nero per essere una ballerina perché mi ci sento anche se vado a ballare il davanti che ne so vado a fare uno spettacolo per gli anziani mi sento già una ballerina quindi lì sono già più allineata all'essere se impariamo ad essere prima che a volere possiamo avere veramente dei risultati perché quando siamo allineati a quell'essere vibrerò su una frequenza che attirerà ciò che desidero invece di allontanarlo e il solo io voglio avere attenzione siccome la legge d'attrazione è letterale io quello che attirerò è il voglio avere ovvero la mancanza cioè se io voglio questa penna quello che attirerò siccome la voglio perché mi manca se sono sulla frequenza della mancanza e quindi la voglio perché mi manca quello che attrarrò è il volere quella penna non la penna quando ciò che desideriamo invece è allineato ma soprattutto è allineato al nostro sentire perché noi siamo quando vibriamo su quella frequenza e vibriamo e siamo nel cuore quando siamo allineati alla nostra essenza divina e quando ciò che desideriamo è allineato crea non solo conseguenze positive per noi stessi ma può anche aiutare le persone ad avere un impatto positivo a livello globale perché quando noi siamo allineati al nostro perché al nostro essere emaniamo un certo tipo di vibrazione talmente alta che diventa tutto un effetto a catena è come se ci influenzassimo uno dietro l'altro un effetto domino un altro aspetto fondamentale della legge l'attrazione è legato alla fisica quantistica e riportato anche però in altre parole quando parliamo della religione pensate ad esempio a San Francesco San Francesco diceva quando esprimi pensieri e parole potrebbero diventare profezia nella tua vita quindi questi concetti che abbiamo visto nella fisica quantistica le riportiamo anche tranquillamente nella spiritualità nella religione Luca nel Vangelo dice chiedete vi sarà dato cercate e troverete bussate e vi sarà aperto tutte le religioni ma anche le filosofie occidentali e orientali sono piene di riferimenti alla legge dell'attrazione ovviamente gli attribuiscono dei nomi diversi ma la fisica quantistica inoltre conferma che l'osservatore influenza la realtà di conseguenza appurato che ciò che desideri risuona con ciò che sei quindi essere fare avere finché non viene osservata non è un'onda di probabilità per esempio se pensiamo sempre di avere tanti debiti li attireremo sempre di più perché allora non pensare in maniera positiva perché li attireremo sempre di più perché avete mai avete mai osservato che quando iniziate a pensare una cosa la pensate la pensate però a livello di mentale la vedete anche in qualche modo quindi magari siete lì che pensate oddio deve arrivare una bolletta già vedete le bollette incominciate anche ad osservare di più sul mobile le bollette e arrivano sempre robe da pagare non possiamo prenderci in giro però mi devo rendere conto e quindi qui si ritorna nella responsabilità di come sto pensando devo essere presente a me stesso cioè se voglio cambiare la mia realtà devo iniziare a comprendere come sto indirizzando i miei pensieri devo essere sempre più presente cambiare il mio dialogo interno e anche le immagini che attraverso quel dialogo interno sto creando perché una volta che poi l'ho visualizzato è più facile anche che lo manifesto e quindi di conseguenza per tutto questo è molto utile un lavoro sulle convinzioni cioè qual è il motivo per cui oggi il mio modo di pensare è prettamente negativo basterebbe tre secondi perché su di noi è difficile perché tendiamo sempre a volerci disidentificare dalla nostra famiglia però se lo guardiamo sull'altro lo vediamo subito eh mio marito uguale al suo babbo eh un orso uguale al suo padre oppure mamma mia quella lì guarda stare insieme a quell'altra sono diventati uguali quante volte ci capita di osservare questo la domanda è il modo in cui mi sto comportando il mio modo di pensare il mio modo di agire è veramente mio cioè io mi sono accorta che ho avuto una storia d'amore per undici anni con un uomo veramente meraviglioso cioè un uomo che in tante mi invidiavano perché era un uomo fedele disponibile per la famiglia un bell'uomo sensibile disponibile aveva accettato i miei figli come se fossero i suoi e non lo erano però poi mi sono accorta col passare del tempo che quello era la proiezione dell'uomo che mia madre avrebbe voluto per sé tant'è che quando ci siamo lasciati io ho avuto difficoltà poi con mia madre successivamente questo perché perché io stavo materializzando e incarnando la proiezione di mia madre però non era quello che risuonava con me perché in tutta la sua perfezione apparente non era adatto alla mia personalità vi spoiler che in undici anni abbiamo discusso tra virgolette tre minuti solo perché io ho aizzato quindi non c'era mai una discussione allora è utile capire perché sto manifestando questo e i lavori sulle convinzioni si possono fare attraverso tante tecniche io ad esempio personalmente per certi tipi di indagini utilizzo la tecnica del theta healing oppure faccio indagini approfondite attraverso i registri acascici che sono le due tecniche che insegno e che utilizzo ma non significa che non ci siano altri modi trovate il vostro modo per indagare attraverso le domande se quello che desiderate quello che state sperimentando nella vostra vita ed è veramente quello che desiderate si è allineato col vostro essere quando ci saremo lavorati e i nostri pensieri saranno per lo più potenzianti nella fase successiva si incentra la fede quindi abbiamo lavorato su di noi stessi abbiamo stiamo manifestando quindi stiamo siamo allineati al nostro essere ora porto a manifestazione e ho fede che ciò avvenga avere fede è necessario bisogna vivere il desiderio nella certezza che c'è già perché perché se comincio a dire ma speriamo che sia speriamo speriamo che questa sia la volta buona cioè capite che immaginate se foste l'universo no quindi chiedi e ti sarà dato se per risonanza mi devi dare quello per cui vibro quando io dico madonna speriamo che questa volta guarda l'ho manifestato speriamo che sia veri che cosa sto manifestando non ci credo abbastanza quindi significa che ho paura di non averlo che ho paura di non ottenerlo e quindi vibrerò sulla frequenza della bravi paura quindi non l'avrò perché dobbiamo avere la fede perché qui entrano in gioco le emozioni e le vibrazioni micro e macrocosmo sono uniti in un rapporto chiamiamolo così olografico che li mette in grado di influenzare di influenzarsi reciprocamente e questo agisce su noi stessi influenzando la realtà che abbiamo intorno facciamocene alla fine una ragione l'ultima fase è quella della realizzazione l'universo ai suoi tempi e realizza solo ciò che risuona con noi ecco sì facciamocene una ragione ricapitolando la legge d'attrazione funziona in base alle nostre convinzioni creiamo dei pensieri e in base a ciò che pensiamo emaniamo delle vibrazioni che emanano una certa frequenza e in base a questa frequenza attiriamo ciò che risuona con essa e ciò che realizziamo è lo specchio della nostra realtà interiore ma quindi Maria Raica alla fine possiamo attrarre volontariamente sì possiamo come emanando la vibrazione che avremmo se avessimo l'oggetto dei nostri desideri ovvero essere fare avere se io sono già la frequenza che avrei con quel risultato farà azioni e scelte inerenti a quella frequenza e ciò porterà nella mia vita ciò che desidero la legge d'attrazione è il potere innato dell'essere umano e funziona ma non la si può ingannare cioè non è che si dice ora faccio finta di sentirmi così faccio finta di essere felice perché se fingo di essere felice l'universo crede che sono felice allora mi dà questo perché se ho la macchina di lusso sono felice non si può ingannare l'universo non si può ingannare l'universo ma soprattutto non si può ingannare noi stessi ricordatevi che riusciremo a realizzare soltanto quelle mette quei sogni e quegli obiettivi che sono in armonia con l'universo nei quali crediamo veramente per i quali siamo disposti in qualche modo a tutto perché siamo disposti a tutto perché se io sono questo non posso negare ciò che sono questo sono per questo si dice che sono disposto a tutto per essere in armonia con noi stessi e per poter usare la legge d'attrazione nel modo migliore per il nostro bene massimo serve conoscere anche tante altre cose non è che è tutto qui qui stasera abbiamo fatto un'introduzione ad esempio anche consapevolizzare come le emozioni di bassa frequenza ci fregano e come le emozioni di bassa frequenza ci influenzano ma soprattutto è importante anche conoscere come le proiezioni degli altri possano farci manifestare e poi attrarre qualcosa che non è in linea con ciò che siamo e ciò che vogliamo ieri sera c'era qui una mia amica stavamo parlando e ragionando insieme a un certo punto dentro di me io faccio madonna c'è una moglie giapponese dentro di me a un certo punto la guardo e le faccio dopo una ventina di minuti che parlavamo di altro dico ti vai il giapponese e le fa oddio l'ho manifestato farò qui che ci pensavo madonna mi ci andrebbe il giapponese e te lo hai detto a quel punto lì è di chi è la manifestazione l'ho avuta prima io e quindi pensandolo energeticamente visto che eravamo vicine e i nostri spazi energetici in qualche maniera intersecavano tra di loro la mia proiezione è arrivata a lei o la sua proiezione è arrivata a me e io l'ho portata a concretizzazione qual è? ricordiamoci che facciamo parte tutti di un unico flusso di energia per questo ci influenziamo a vicenda e veniamo influenzati da qualsiasi cosa ci circondi che sia vicino o che sia distante e allora conoscere un po' di cose in merito al nostro potere manifestazionale è indispensabile cioè ma io sta roba che voglio è veramente roba mia quando sono arrivata a manifestare la mia macchina il delirio universale è successo perché volevo la macchina grossa ma io la macchina ragazzi ho quattro anni che ce l'ho ho fatto trentamila chilometri con la macchina quanto mai la utilizzerò alla macchina volevo la macchina grossa a un certo punto il mio compagno che ormai è allineato a quello che al mio lavoro e conosce queste cose mi faccio io voglio la macchina grossa ma anche con una certa veemenza e lui mi fa ma a cosa ti serve la macchina grossa e io ora vi sciocco perché quando non mi fanno passare in autostrada se non mi fanno passare con la macchina grossa gli vado al sedere hanno paura che gli monto sopra e mi fanno passare e lui mi guarda e mi fa ma chi è che sta parlando te o tuo padre mi ha svegliato ho detto cavolo mi ha fregato il dna io stavo manifestando attraverso il mio codice genetico paterno dove la macchina se non è grossa ma grossa intesa proprio di dimensioni non ti rispettano in autostrada perché io prima avevo una 500 a me non mi si filava nessuna allora volevo una macchina grossa perché perché il dna attraverso di me parlava così e allora quella macchina se io l'avessi comprata sarei stata felice oppure no no sono tanto soddisfatta è dispensabile quindi dirigere consapevolmente le nostre manifestazioni utilizzare la legge dell'attrazione in modo evolutivo è utile per diventare co-creatori nella nostra vita in modo consapevole altrimenti se non siamo consapevoli siamo senza direzione il modo in cui manifestiamo anche se non ci mettiamo lì a scrivere i nostri desideri anche se non ci mettiamo lì a utilizzare tutte le tecniche conosciute e immaginare manifestiamo uguale ma quello che manifestiamo è sulla base delle nostre ferite perché le nostre ferite sono quelle che poi alimentano i nostri pensieri e ci allontaniamo dalle nostre scelte di incarnazione ovvero dalla motivazione della nostra anima Jung diceva una frase disse una frase molto interessante sintetica ma la palissiana ed è finché non renderai cosciente l'inconscio dirigerà la tua vita e tu la chiamerai destino questa è una frase sintetica ma che riassume completamente quello che abbiamo detto finora la domanda è vuoi essere il creatore della tua vita o vivere nel destino ovvero nella ripetizione di quello che ti è stato insegnato dagli altri proiettato ereditato inoltre sai di quali convinzioni sei vittima no ma le raica non lo so però non lo so mica se lo voglio sapere libero arbitrio legge inviolabile però puoi non ti lamentare se la vita che stai vivendo non è esattamente quella che vorresti anzi in realtà se dobbiamo proprio dirla tutta è quella che vuoi perché se c'è un problema e non facciamo niente per trasformare quel problema e cambiarlo siamo noi stessi la parte di quel problema non lamentiamoci che siamo sfigati che ci abbiamo il karma contro che ci abbiamo qualcosa da espiare che è colpa di una vita precedente che è colpa di qualcun altro sì qualcuno può averci fatto qualcosa però questo è un altro tipo di capitolo non ne parliamo in questo momento ma parliamo di quello che possiamo creare nella nostra realtà da oggi lo vogliamo creare con sapevoli o con il pilota automatico tutti noi sappiamo vi voglio dire una cosa in più una cosa che tutti noi sappiamo e che ci tengo a accennarvi stasera è anche un'altra cosa che dobbiamo magari tenere in considerazione quando manifestiamo vogliamo attrarre qualcosa che è l'energia anche che c'è oggi come vi dicevo per me se avessi guardato un attimo i pianeti che c'erano non mi sarei ritrovata da ultimo a dire no ma la scaletta della diretta per stasera la scrivo venerdì mattina che sono libera magari l'avrei scritta lunedì la diretta di stasera no i punti salienti da trattare perché oggi un'energia terrificante per la parte creativa almeno per quanto mi riguarda di conseguenza dobbiamo anche sapere che i pianeti che fanno parte del nostro sistema solare che forse questo lo ignorano però attraverso i loro movimenti sviluppano una sorta di magnetismo che proprio pagandosi nell'etere arriva fino a noi e in qualche maniera influisce sulla nostra psiche e sui nostri comportamenti e ogni pianeta vibra secondo una determinata frequenza e i campi magnetici come vi dicevano possono influenzare l'energia vitale dei campi umani esattamente un po' come la luna influenza le maree così ci sono anche le influenze dei pianeti che coinvolgono le attitudini e le emotività umane per questo vi sto dicendo questo no perché a volte possiamo anche se noi siamo allineati anche all'energia visto che tutto è vibrazione di conseguenza la vibrazione che si viene a creare anche grazie ai pianeti perché non è che sono contro no saturno contro no saturno si viene chiamato così però non è che ci è contro che dice ah sfiga a te tiglietto no non è che i pianeti tiglietto non ci portano sfiga in quel momento ci danno delle opportunità evolutive mettendoci di fronte a dei limiti mettendoci di fronte a delle cose che attraverso la quale risoluzione ci permettono di metterci in moto per poter attingere al nostro potenziale perché vi dico questo perché il cielo del 2024 quindi vi do già uno spoiler è molto potente e dovete sapere che questo cielo ci dà una spinta evolutiva non solo di utilità individuale ma soprattutto a livello collettivo e planetario ed è veramente importante perché si apre con il 2024 una porta molto importante per l'evoluzione del pianeta e a livello planetario i movimenti degli aspri ci danno una spinta collettiva per evolvere se ci allineiamo al nostro processo di manifestazione all'energia che ci accompagna e ci sostiene e se siamo allineati a quel tipo di energia diventa tutto più semplice cioè se noi vogliamo andare e avete presente come funzionano i meccanismi dell'orologio ci sono tutte queste tacche che si intrecciano tra di loro e l'orologio funziona ma se quella rotella dell'orologio quell'ingranaggio lo volete girare dalla parte opposta ce lo potete girare ma si rompe per questo motivo vi voglio spoilerare una cosa una cosa in esclusiva sull'onda di questa potente energia che si sta attivando e che ci accompagnerà per i prossimi 20 anni all'inizio del 2024 si attiverà a livello planetario un'energia che non è che durerà tre mesi tre settimane come mercurio retrogrado no 20 anni e è un'energia che se la conosciamo se incominciamo a comprendere come essa funziona e ci allineiamo a noi stessi soprattutto possiamo prendere questa spinta evolutiva e cavalcarla e vivere più semplicemente per questo motivo vi dico subito una cosa veloce ma proprio una cosa rapida rapida ho creato un workshop ma quest'anno sarà specialissimo è un workshop che faccio tutti gli anni legato alla manifestazione perché non solo vi racconterò il tipo di energia che ci accompagna per i prossimi 20 anni e che possiamo cavalcare però vi darò davvero tantissimi strumenti di trasformazione mai così tanti che se vi permetterete di utilizzarli vi aiuteranno tantissimo ad allinearvi alle vostre manifestazioni alle vibrazioni più alte allineati alla vostra miglior versione che già siete il workshop si intitolerà manifesta il tuo 2024 la tua nuova rinascita vi dico soltanto che i pianeti che la faranno da padrone per i prossimi 20 anni sono i pianeti che c'erano quando c'è stata la rivoluzione francese e non vi dico altro è un workshop questo che durerà circa 4 ore e sarà accompagnato da esercizi sistemici che ci permetteranno di apprendere e di mettere in pratica nella nostra vita di tutti i giorni per poter andare a cambiare le aree della nostra vita che ne hanno bisogno smettere di viaggiare alla fine con il pilota automatico ragazzi bisogna smettere di viaggiare con il pilota automatico bisogna essere presenti in questo workshop oltre al lavoro che faremo insieme per quelle 4 ore vi darò dei manuali di lavoro le manuali e il lavoro sulla pulizia energetica sui tagli energetici quindi su quelle influenze che arrivano dall'esterno e ci manipolano nelle nostre manifestazioni vi darò il percorso di 28 giorni della gratitudine meditazioni da poter ascoltare quando volete per riaquilibrare e per manifestare vi darò quaderni di lavoro link di esercizi esclusivi da praticare all'occorrenza ok questo workshop sarà disponibile dal 15 dicembre ma solo per chi non potrà essere presente il 30 dicembre perché il 30 dicembre lo faremo insieme online ci prendiamo mezzo pomeriggio non mi ricordo se il 30 dicembre è sabato o domenica e andiamo a lavorare con l'energia del gruppo che è ancora più potente insieme è importante solo che completiamo sarebbe meglio entro il 31 dicembre perché come vi insegnerò è utile preparare delle liste di manifestazione proprio per la notte del 31 dicembre a cavallo col primo così iniziamo al meglio il 2024 con le intenzioni già strutturate perché è veramente una nuova rinascita mi state già scrivendo su whatsapp non vi prenotate adesso quindi rimanete sul gruppo whatsapp pro memoria dove siete ora non vi cancellate da lì perché comunque per Natale un pochino prima vi metterò a disposizione un tot di borse di studio che saranno il mio regalo di Natale per le persone che comunque sia mi seguono che sono sui social e quindi metterò delle borse di studio a vostra disposizione per chi invece desidera approfondire le tecniche per lavorare su se stessi come sempre sapete che sono insegnante sia di Theta Healing e di registri acascici e ora a dicembre ci sarà anche l'iniziazione ai tre livelli dei registri come sempre se lo desiderate alla fine vi dico quello che faccio e quello che vi porto ma l'importante per me davvero è mi auguro dal cuore stasera di avervi dato degli strumenti utili per poter iniziare a soprattutto a comprendere qual è il modo in cui anche se fate una lista dei desideri anche se non partecipate al workshop il modo in cui manifestate c'è perché voglio questa cosa cosa ci sta sotto che fa sì che io oggi voglia questa cosa nella mia vita voglio la macchina grossa sono io che la voglio voglio fare la ballerina sono io che la voglio come sapete mi piace sempre citare la frase di Samuele Berzani ricordandoci che molto spesso viviamo come la copia di mille riassunti vi auguro di essere la vostra versione originale di essere il vostro libro di autore e con questo chiudo vi auguro una buona serata